RS Bianco è rinnova plastica bianca multifunzione dalle caratteristiche uniche brevettate da Black Traction e si differenzia da tutti i prodotti concorrenti sbiancanti perché non contiene corrosivi per pulirla che la danneggiano irreparabilmente e che poi rendono inutile qualsiasi tentativo di recupero RS Bianco ha elevate proprietà sgrassanti che ti permettono di estrarre lo sporco, gli agenti macchianti o la ruggine assorbita e risbiancare al meglio possibile la plastica bianca oppure per togliere il ruvido ingiallimento dovuto all'invecchiamento e all'ossidazione per rinnovare al meglio possibile la plastica bianca ma soprattutto RS Bianco successivamente la protegge con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima dall'assorbimento di ulteriori agenti macchianti e dall'ingiallimento dell'invecchiamento così quando termina l'effetto, dopo molti mesi, puoi rinnovare applicazione ed effetto a differenza dei corrosivi che potrebbero permetterti di smacchiare la plastica però successivamente continuano a lavorare e la danneggiano irreparabilmente rendendola ancora più ruvida ed esposta ad un assorbimento maggiore e più veloce di agenti macchianti e ad un ingiallimento irreversibile l'applicazione di RS Bianco è facile e veloce e va fatta ad una buona temperatura ambiente, superiore ai 15 gradi almeno con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti oppure con una lana d'acciaio fina per integrare un'azione meccanica all'azione chimica necessaria quando l'ossido superficiale si è solidificato ed è diventato molto duro oppure per estrarre lo sporco assorbito RS Bianco ha anche funzione tecnica per stabilizzare la plastica sia bianca che colorata mantenendo il colore originale quando si deteriora fino a sbriciolarsi e a ridursi in polvere è un prodotto multifunzione perché puoi utilizzare RS Bianco anche per togliere l'ossido esterno, la ruggine ed il calcare che si forma su leghe e cromature ma soprattutto si differenzia da qualsiasi altro prodotto pasta o cera e sistema per pulire e togliere l'ossido che rende ancora più porosa la superficie perché una parte di RS Bianco viene assorbita da cromature e leghe ed ha funzione protettiva termoresistente per impedire per molto tempo la formazione di ossido e l'accumulo di calcare puoi utilizzare RS Bianco anche per rinnovare il colore originale della plastica invecchiata e sbiadita esattamente come RS con una lunghissima durata d'effetto come RS dimostrata superando prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi che nessun altro prodotto rinnovatore è in grado di dimostrarti di poter superare infine con RS Bianco puoi rinnovare la trasparenza perduta dai fanali in policarbonato ingialliti originali non verniciati questo trattamento non ha una durata equiparabile ad una levigatura e successiva verniciatura però ti può permettere con una spesa molto minore di migliorare la trasparenza dei fanali in maniera sufficiente per permetterti di passare una revisione facile, veloce e conveniente RS Bianco non contiene silicone, cera e corrosivi non lascia residui bianchi a secco quando l'effetto termina e quando l'effetto decade è rinnovabile ed ha finitura idrorepellente protettiva termoresistente e verniciabile RS Bianco è un prodotto rinnovatore italiano multifunzione antiossidante dalle caratteristiche uniche e brevettate che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente senza silicone, senza cera e soprattutto senza corrosivi lo puoi ordinare dal sito Black Traction e c'è vera comodamente a casa ma non lo trovi su piattaforme come Amazon non adatto a rinnovare plastiche e materiali rovinati dalla precedente applicazione di prodotti corrosivi o rovinati dalla prolungata esposizione allevate fonti di calore